Sulla problematica delle case a terra, Marcello Antonelli, siete tornati a battere forte questa mattina in conferenza stampa. C'è questa delibera di gennaio, 5 milioni di euro che però non sono evidentemente sufficienti. E poi c'è anche l'altra questione che fino ad oggi è stato il comune di Pescara ad anticipare dei fondi. D'Alfonso stanzia 5 milioni di euro e dice che sono per l'emergenza abitativa di Via Lago di Borgiano. Fa riferimento però a un atto della sua giunta che invece individua quale oggetto degli interventi altri alloggi, che sono quelli di Via Caduti per Servizio e quelli del rione Gescal dei Colli. Interventi che devono essere fatti, ma qui bisogna che ci si metta d'accordo. I 5 milioni di euro non sono sufficienti per fare quegli interventi e anche per trovare soluzioni alla mancanza di agibilità e quindi di alloggi di Via Lago di Borgiano. Ad oggi il comune di Pescara ha già impegnato i 200 mila euro, quegli alloggi sono di proprietà dell'Ater e quindi alla Regione e la legge dice che è il proprietario che deve farsi carico di questa fase emergenziale. Pertanto il comune ha anticipato ma deve vedersi rimborsate velocemente queste somme e soprattutto la Regione deve farsi carico di tutti gli impegni che saranno necessari per le prossime settimane e per i prossimi mesi. Se è prioritario uno skate park o dare i soldi necessari per non fare una guerra dei poveri sulla ristrutturazione degli alloggi Ater perché i 5 milioni annunciati dal Presidente D'Alfonso per la risoluzione dei problemi strutturali, ovvero rendere agibili i immobili oggi chiusi, appartamenti oggi chiusi, da assegnare alle famiglie evacuate da Via Lago di Borgiano sono in realtà destinati ad altre opere di sistemazione e di manutenzione di altri alloggi Ater, opere assolutamente positive che si devono fare ma che non sono sufficienti a coprire tutte e due le emergenze. Allora innanzitutto bisogna mettere chiarezza tra le carte e la Regione perché il compito che ha dato la Regione all'Ater è di fare altro rispetto all'emergenza abitativa di Via Lago di Borgiano. Se servono altre risorse si fa quello che farebbe un qualsiasi uomo di buonsenso che ha una programmazione e invece la cambia e pensa all'emergenza che è più importante di opere che hanno una loro importanza ma che non sono strettamente necessarie in questo momento.